Argomento di questa video lezione è l'identità digitale. Dopo aver trattato in un altro video l'identità virtuale che ognuno di noi può assumere quando naviga nel web, ora andiamo a vedere che cosa si intende nello specifico con identità digitale. E partiamo naturalmente dalla definizione. Identità digitale è l'insieme delle risorse digitali associate in maniera univoca ad una persona fisica che la identifica rappresentandone la volontà durante le sue attività digitali. Quindi di fatto per identità digitale noi intendiamo qualcosa di molto più specifico e oserei dire tecnico rispetto all'identità virtuale che è appunto quella rappresentazione di noi che possiamo costruirci andando su web, frequentando i social. Qui invece parliamo proprio di insieme di risorse digitali associate in maniera specifica, univoca, cioè che queste risorse digitali vanno a connotare una persona fisica, vanno a identificare una persona che esiste realmente, ne rappresentano la sua volontà, cioè cosa intende fare per esempio all'interno di un sito, di una piattaforma, quindi ne rappresentano il suo desiderio all'interno durante le sue attività online. Quindi è qualcosa di molto più specifico di un avatar, come abbiamo visto nella nella lezione precedente, oppure semplicemente la costruzione del sé o in una multicostruzione di molti sé. L'identità digitale viene presentata per accedere o a un sistema informatico, oppure, cosa ci capita molto più spesso, un sistema informativo, quindi dobbiamo entrare all'interno di un sito, o per la sottoscrizione di documenti digitali, quindi appunto quella che è la firma digitale. Quindi anche questo secondo aspetto identifica un noi, quindi una persona che naviga su internet, che naviga appunto nel web, non naviga per giocare, per quanto attività ludica sia fondamentale, come abbiamo visto nell'identità virtuale. Non naviga per costruire un proprio profilo a seconda dell'account in cui si trova, ma è un'identità che ci serve in maniera specifica per le nostre attività di lavoro, o di home banking, o di... legate naturalmente a qualcosa di molto particolare e che fa riferimento a un'unica, univoca persona. In una accezione più ampia, ma non sarà questa l'accezione che utilizzeremo in questa videolezione, per identità digitale si intende l'insieme di informazioni presenti online e relative ad un soggetto. ma di questo ci siamo in parte occupati in altre videolezioni. Ma questa identità digitale può essere anche generica e nello stesso tempo può essere sempre più specifica, a seconda delle cose che noi vogliamo fare su internet. La rappresentazione dell'identità digitale deve essere tanto più completa quanto è complessa la transazione in cui è coinvolta. Quindi la nostra identità è un'identità che vedremo e caratterizza tutta una serie di passi, dal più semplice al più complesso, quindi organico e completo, a seconda di quello che vogliamo fare su internet. Infatti il grado di affidabilità e la quantità di informazioni richieste possono variare in modo molto significativo a seconda del tipo di transazione, cioè del tipo di attività che noi abbiamo intenzione di fare. È un processo praticamente come se fosse un salire le scale, il primo gradino è abbastanza facile, però se noi poi vogliamo di fatto fare operazioni più complesse, non semplicemente andare a consultare la nostra edizione online del Curiliano, ma andare un pochettino su attività che possono presupporre appunto la consultazione del nostro conto corrente o ovviamente attività che hanno a che fare con il nostro mondo del lavoro e quindi entrare in alcune piattaforme dedicate per esempio alla scuola o specifiche per alcune aziende, è chiaro che la difficoltà aumenta e quindi le informazioni che chiedono per autenticarci saranno molte di più e quindi la nostra identità digitale va da un minimo, da un'autenticazione piuttosto semplice a un massimo che è un'identificazione estremamente articolata, complessa e completa per certi aspetti. vediamo allora più nello specifico di identità digitale quando si parla di identità digitale cosa si intende? allora si intendono due cose importanti il primo è il chi è, quindi nell'identità digitale c'è un chi è c'è quello che è l'essenza stessa dell'identità nostra nel web e cioè la nostra carta di identità di solito è caratterizzata da un id, appunto un acronimo per indicare proprio un termine che va a definire noi stessi oppure un username un termine un po' più vago ma che probabilmente noi utilizziamo in maniera più diffusa rispetto all'id, cioè al termine che ci identifica come soggetto che sta navigando su internet nello stesso tempo per unità digitale si intende anche una seconda parte che ha a che fare con le credenziali che ognuno di noi possiede sono i cosiddetti attributi dell'identità cioè sono quegli aspetti altrettanto importanti che vanno a completare il chi è, cioè la prima domanda, vanno a completare l'username e su questo secondo aspetto noi punteremo in questa video lezione perché vedremo che gli attributi di identità, cioè le credenziali che arricchiscono il nostro username, il nostro id quindi queste credenziali possono essere di diverso tipo partiamo da quella più semplice, appunto la password che sono credenziali che ognuno di noi possiede deve celare, nascondere in maniera molto attenta perché ci possono essere operazioni di furto di identità digitale che partono proprio dal furto della password quindi ma su come si costruisce una password abbiamo già detto in un'altra video lezione comunque la password è una credenziale che noi abbiamo e che è una credenziale ovviamente nascosta quindi che noi soltanto dobbiamo conoscere accanto naturalmente a questi due elementi, diciamo, basici che sono appunto l'username e la password ce ne sono altri che insieme con la password vanno a formare quelle che appunto abbiamo detto chiamarsi le credenziali di autenticazione è chiaro che usare l'username e la password può essere utile quando devo consultare per esempio la posta elettronica ma ci sono operazioni che io posso fare su web molto più complesse per esempio consultare il mio conto in banca e in questo caso naturalmente avere soltanto un username e una password cioè un'autenticazione di primo livello praticamente è abbastanza rischioso e quindi allora andiamo a vedere quelle credenziali di autenticazione che come abbiamo detto nella slide precedente in questa sorta di scala ci portano da un livello zero dove non esistono io consulto la pagina pubblica di un quotidiano online per esempio a un livello 1 che è appunto quello che noi spesso usiamo con username e password per esempio abbiamo detto per consultare la nostra posta elettronica a altre autenticazioni sempre più complesse a due fattori, a molti fattori a secondo ovviamente della complessità delle operazioni che abbiamo intenzione di fare online e allora andiamo a vedere in che cosa consistono nello specifico queste credenziali di autenticazione esistono vari livelli di autenticazione quello più usato è l'autenticazione a un solo fattore ed è caratterizzato dal nostro ID o username più la password abbiamo già detto si tratta di un'autenticazione che noi usiamo per esempio per i nostri servizi di posta che noi chiamiamo poi in maniera più generale il login quindi quando entriamo appunto nella nostra casella di posta elettronica oppure in alcuni siti appunto in cui siamo loggati accanto a questa autenticazione a un solo fattore esiste l'autenticazione a molti fattori cioè l'autenticazione da due fattori in poi già l'autenticazione a due fattori è un'autenticazione sicuramente che ci protegge di più e allora in che cosa consiste questa molti fattori allora oltre naturalmente l'username e la password aggiungiamo quindi la password come primo fattore aggiungiamo il secondo fattore o meglio fattori a livello ovviamente di difficoltà sempre maggiore potrebbe essere una chiave fisica cioè qualcosa che possediamo solo noi fisicamente abbiamo in mano nel momento in cui entriamo nel web e che dobbiamo utilizzare naturalmente per farci riconoscere perché noi teniamo in mano questa password quindi questa ulteriore password, questa chiave fisica e quindi solo questa chiave fisica unita alla password ci può permettere di accedere in questo sito accanto alla chiave fisica per esempio la smart card che può essere anche online ma potrebbe anche essere fisica siamo cioè nell'ambito dei token che spesso vengono utilizzati chiave fisica e smart card sono laddove appunto questa smart card non è online sono strumenti che noi possediamo la smart card ovviamente è più complessa alcune sono state di vere e proprie microchip che contengono, mantengono in memoria delle informazioni particolarmente importanti che comunque sono supporti che ci aiutano per cercare di avere maggiore sicurezza cioè nel senso qualora per operazioni particolari ci dovessero rubare la password ecco abbiamo uno strumento in più fisico che noi possediamo materialmente nelle nostre mani ovviamente l'autenticazione diventa sempre più complessa per alcuni settori di sicurezza ovviamente sicurezza nazionale eccetera ci può essere un altro fattore collegato alla password e anche a una chiave fisica potrebbe essere anche l'iride quindi andiamo sulle autenticazioni con caratteri biomedici e andiamo anche all'impronta digitale o addirittura anche all'impronta vocale quindi come vedete come vi ho visto precedentemente c'è questa sorta di scala passiamo da un'autenticazione a un solo fattore cioè password legata agli username naturalmente che identifica noi quindi non fa parte dell'autenticazione nel vero senso del termine e dall'altra parte abbiamo la multifattori da due quindi l'autenticazione a due fattori cioè password più chiave fisica che può essere anche inoltrata in maniera online per esempio sul nostro smartphone come messaggio oppure sulla nostra posta elettronica oppure un vero e proprio supporto tipo token e smart card che fisicamente noi possediamo oppure altri strumenti sempre più complessi e quindi per riassumere la nostra identità digitale con cui siamo autenticati l'autenticazione è l'operazione immediatamente precedente l'entrata dentro il sito quindi per cominciare a lavorare quindi l'identità digitale è caratterizzata da queste cose qualcosa che so qualcosa che ho e qualcosa che sono ecco l'intreccio tra tutte queste tre cose creano una identità digitale da quella più semplice che noi usiamo in alcuni contesti contesti diciamo tra virgolette sereni a contesti molto più complessi perché le operazioni come vi ho visto precedentemente le transazioni che dobbiamo fare sono sempre più delicate e pericolose allora che cosa si intende che qualcosa che so qualcosa che so la password per esempio in alcuni casi il pin che poi ovviamente insomma un codice alfanumerico che può essere cambiato con una password o semplicemente un pin che è bloccato e che appunto ci identifica quindi qualcosa che so insieme con gli username vero e proprio qualcosa che ho che posseggo materialmente un tesserino identificativo una smart card quello che noi chiameremo appunto un token che può essere ormai anche online per esempio sui smartphone oppure anche offline cioè dato come vero e proprio strumento che deve essere consultato in abbinamento con l'operazione che stiamo facendo nel durante mentre siamo sul web quindi token fisici che possediamo materialmente o che mi viene consegnato insomma tramite punto codice abbiamo detto o tramite sms oppure tramite mail e qualcosa che sono qua arriviamo a livelli più ampi la calligrafia con le varie firme che poi ritroveremo su alcuni documenti l'impronta digitale l'impronta vocale e l'iride con strumenti appunto che abbiamo visto sempre più complessi e complicati e che servono naturalmente per operazioni sempre più complesse e sempre più complicate quindi ci permettono di lavorare su internet con una buona dose di tranquillità perché noi possiamo essere sicuri che quello che abbiamo inviato non venga cambiato possiamo usare la firma digitale la firma digitale ci identifica ancora una volta quindi per essere sicuri che nessuno intercetti i dati che si stanno scambiando può essere importante sapere che nessuno li ha alterati durante la trasmissione cioè essere sicuri che il documento che si riceve è lo stesso è il documento inoltrato dall'altra identità digitale e non è stato alterato o danneggiato ecco l'identità digitale presuppone anche una firma digitale è un procedimento abbastanza complesso che ci permette probabilmente di che la nostra firma sia controllata una firma digitale vera e propria oppure in alcuni casi una vera e propria firma su alcune tavolette particolari come talvolta succede per esempio in banca si tratta comunque in questo caso di una firma digitale che l'identità digitale protegge anche attraverso un altro strumento importante che vediamo nell'ultima slide parlavamo appunto di riservatezza di dati quindi di privacy dei dati ma anche di incolumità dei dati cioè i dati che quello che abbiamo scritto devono arrivare così come li abbiamo impostati a destinazione ebbene per quanto riguarda l'argomento della slide precedente l'argomento di questa slide chiaramente noi parliamo di criptografia cioè la capacità del sistema di impedire che una terza parte intercetti e sfrutti i dati che si stanno ricevendo o trasmettendo questa riservatezza di dati come anche la firma digitale è fatta attraverso questo lo strumento della criptografia in entrata in uscita in maniera tale che non si potrà mai avere l'intero codice per decriptare tutti i documenti i documenti che vengono scambiati online grazie a tutti l'intero codice